Un giorno importante, l'occasione per celebrare tre ricorrenze che hanno segnato la storia di Castelpetroso, il cinquantesimo anniversario dalla proclamazione della Beata Vergine Addolorata, patrona del Molise, il centotrentatresimo anniversario dalla posa della prima pietra della Basilica e il decennale dalla concessione del titolo di Basilica minore al santuario di Castelpetroso, traguardi che sono stati festeggiati con una cerimonia solenne. È un giorno importante per tutta la regione molisana, perché questo è un luogo spirituale che in qualche modo raccoglie tutta la regione, non solo la regione molise, ma anche tante altre persone dall'Italia, anche dall'estero, che vengono qui in pellegrinaggio, ma anche per una semplice visita turistica. La prima pietra fu posta il 28 settembre del 1890 alla presenza di circa 30.000 fedeli in un'atmosfera di fede e di gioia, un luogo di preghiera, ma anche un'opera d'arte stile neogotico, tappa obbligata per i pellegrini. Il santuario fu poi consacrato il 21 settembre del 1975 e nello stesso giorno del 2013 fu elevato a Basilica minore. In quel giorno veniva posta la prima pietra e solo dopo 85 anni veniva portata a termine la costruzione. Questo a motivo delle scarse risorse economiche, le due guerre e il freddo dell'inverno che impedivano chiaramente i lavori durante quella stagione. E questo luogo è stato costruito con il sacrificio della gente e piccole offerte, il lavoro manuale, gente che ha offerto il proprio lavoro affinché si potesse costruire questo luogo che oggi possiamo contemplare da punizio architettonico ma anche spirituale. Ma il 6 dicembre del 1973 Maria Santissima Dolorata fu proclamata da Papa Paolo VI patrona del Molise, Oggi, 50 anni dopo, la sua protezione, ha detto il Vescovo Bregantini, è quanto mai necessaria. Sentiamo la protezione di Maria sempre più importante. Tramite la sua protezione chiediamo che noi siamo capaci di custodire la bellezza naturale del Molise, di non fare scelte avventate, di non credere che un finto progresso possa salvarci quando invece davanti alle situazioni attuali è la custodia del territorio, come dice, l'ha laudato sì che darà futuro al territorio. Per cui bisogna stare molto attenti anche alle scelte dell'Enel, essere invece attenti a custodire profondamente. Questo è il messaggio che mi pare questa protezione mariana, lei ci dice. La cerimonia è stata introdotta dalla fanfara dei Carabinieri, un legame, quello dell'arma con la Vergine, indissolubile nei secoli. Abbiamo l'onore e il piacere di avere la fanfara più antica dell'arma dei Carabinieri, che è quella del reggimento a cavallo, che è comandata dal luogo del ente dei Tassinari, che è qui a fianco a me. Però il nostro rapporto col Castel Petroso è un rapporto che è fedele nei secoli, come il nostro motto, e quindi si esplicita da tanto tempo, tant'è che anche l'ultimo 5 giugno abbiamo festeggiato qui l'annuale della fondazione dell'arma, la festa dell'arma, e quindi in questo scenario stupendo. E poi, come sapete, la patrona dell'arma è proprio la Madonna, la Virgo Fidelis, che festeggiamo ogni 21 novembre.